La squadra mobile di Siracusa ha sempre bisogno di ossigeno e continuerà a averne bisogno. Vi ho detto poco fa in conferenza che siamo in attesa della conclusione dei concorsi per avere un po' di aumento di organico nei quadri. Nei quadri intendo proprio l'attività investigativa pura della qualifica di ispettori. Quindi ci sono dei concorsi in atto, grazie a Dio, e quindi prima o poi avremo questa bocca d'ossigeno. Però a livello di funzionari voi sapete quanto è importante avere dei punti di riferimento continui e un solo funzionario era proprio insufficiente. Quindi privati dal capo della mobile, poi il Dipartimento ha fatto la scelta di individuare un dirigente della squadra mobile proponendolo anche a noi come questura e come questore. Noi siamo stati ben lieti di dare il nostro sì alla dottoressa Stramandino che ha un'esperienza di parecchi anni nell'attività investigativa, prima di IGOS e poi squadra mobile. E se mi permettete anche all'ufficio immigrazione che ha diretto e pertanto leggerete che ha delle specializzazioni anche sulla tratta degli esseri umani che è in piena sintonia con quello che faremo. Contemporaneamente ho detto che volevo ringraziare il buon dottor Rosario Scalissi che mi ha collaborato quasi per sei mesi veramente molto 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 bene sia a me sia alla magistratura portando avanti parecchie indagini e concludendoli addirittura con molto sacrificio perché da solo ha dovuto trainare il carro della squadra mobile che è una squadra mobile molto importante, molto prestigiosa e ha un'intensità di lavoro sia nel capoluogo sia in provincia veramente notevole. L'osservatorio che ho avuto a Messina è sicuramente un osservatorio privilegiato. Spero di riuscire a lavorare anche qui a Siracusa dando delle risposte che siano veramente efficienti per tutta la cittadinanza. Ne ho già comunicato in qualche modo quali sono le emergenze primarie sul territorio? Stiamo ovviamente analizzando qual è la situazione siracusana. Vi sono ovviamente, è stato ben fatto prima, ci sono tutta una serie di attività attraverso le quali speriamo comunque di ritare risposte concrete. Grazie.